insalata di patate per l'insalata di patate vi occorrono un chilogrammo di patate 130 grammi di maionese un cucchiaio di zucchero un bicchiere d'acqua un limone aceto di vino bianco olio bollite le patate in acqua per 15 minuti una volta pronte lasciatele raffreddare nel frattempo in una ciotola mettete la maionese aggiungete l'aceto olio il succo di limone zucchero sale acqua amalgamate fino ad ottenere un composto omogeneo ora pelate le patate tagliatele a cubetti mettetele in un insalatiera conditele con olio aceto e sale aggiungete ora la salsa di maionese e il prezzemolo tritato amalgamate con delicatezza e la salsa è pronta